Il sistema di gestione ambientale Reda coinvolge molti aspetti differenti. Il 100% dell'acqua utilizzata è depurata. Quindi non si spreca niente. In una vasca di questi quanti litri ci stanno più o meno? Proprio tanti. Tanti, Fede, molti. Tanto, tanto, ma molto tanti. Di questa, il 20% viene riutilizzato nel processo di produzione, mentre il restante 80% è restituito all'ambiente. Qui l'aria è purificata 20 volte al giorno, così è più pulita dentro lo stabilimento che fuori. Gli impianti fotovoltaici generano un picco di 500 kW e consentono di limitare l'emissione di CO2. Tutto questo ha permesso a Reda di ottenere la certificazione ambientale EMAS, che impone all'azienda di migliorare ogni anno le sue performance ambientali. Reda è l'unica azienda tessile al mondo ad avere questa certificazione. Ci pensate se le altre aziende prendessero questa idea? Sarebbe bello. Grazie! Grazie a tutti. Grazie! Grazie a tutti.